Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di orecchiette, se fatte in casa meglio, rucola Pomodoro fresco Cipolla Olio Pecorino grattugiato e peperoncino tritato Preparazione Cuocere le orecchiette nell'acqua con la rucola e poi scolare Scaldare il pomodoro fresco con cipolla e olio e unire con le orecchiette e la rucola Servite con la rucola lessa Poco pecorino e con una punta di peperoncino Oltre le orecchiette pugliesi puoi usare altra pasta Il piatto è pronto Buon appetito!